Eccomi di nuovo amiche, vi volevo far vedere i camei che ho ordinato su brillanti creazioni, che sono bellissimi, avevo fatto già un primo ordine, questo è il mio secondo ordine, per me sono bellissimi e poi vedrete cosa ho in mente di fare con questi camei, mi piace soprattutto riprendere con la pazza rubaforma il disegno che è sopra il cameo, perché mi piace riprodurlo, mi ha mandato in omaggio una gemma e farò come ha suggerito Anton Piccolo Fiore, proverò anche io a fare qualcosa con la gemma, perché non ho fatto ancora creazioni con le gemme, molto soddisfatta di questo ordine e ve la consiglio. A presto!